Venerdì 21 novembre, memoria liturgica della presentazione di Maria Santissima al Tempio, celebreremo la giornata Proorantibus, dedicata alle comunità religiose di clausura. È un'occasione opportuna per ringraziare il Signore del dono di tante persone che, nei morasteri e negli eremi, si dedicano a Dio nella preghiera e nel silenzio operoso, riconoscendole quel primato che solo a Lui spetta. Ringraziamo il Signore per le testimonianze di vita claustrale e non facciamo mancare loro il nostro sostengo spirituale e materiale per compiere tante importanti missioni.